La Camera, coordinatore nazionale di Italia Viva oggi, in più in questa veste, Ettore Rosato. Grazie Gianluca, grazie Lucia, veramente un grazie affettuoso per il lavoro che avete saputo mettere in campo in questi mesi faticosi. Ci scrivevamo durante i vostri interventi nella nostra chattina che abbiamo io, Gianluca e Lucia, commentando le cose che venivano dette e devo dirvi che io gli scrivo ma che bel gruppo dirigente che avete, veramente motivato, preparato, tutti interventi sui temi, temi così diversi ma così profondi e sono sicuro che se ognuno di voi avesse avuto a disposizione 20 minuti per illustrare le cose dalla logistica alle infrastrutture, dalle problematiche delle famiglie sull'autismo ai temi europei, non sarebbero bastati e non ci saremmo annoiati di ascoltare le cose che dicevate e questo è il bello della politica e la caratteristica per cui noi abbiamo fondato un partito diverso, quello di poterci confrontare sulle idee, poterci confrontare sul merito delle questioni, aiutare gli amministratori a fare il loro mestiere nel modo migliore con quello spirito che anche abbiamo ascoltato nella parola di tanti amministratori che sono intervenuti a cominciare da Paolo che saluto veramente con affetto e ringraziandolo anche per aver partecipato alla nostra assemblea. Vi racconto di un'altra chat che è quella del gruppo parlamentare in cui sempre mentre voi chiacchieravate ha cominciato l'ISA e poi siamo intervenuti tutti quanti noi a scrivere ma guarda che bella assemblea che stiamo facendo piena di osservazioni interessanti e un po' di queste osservazioni le abbiamo fatto tesoro io, Gianluca e Lucia per dirci guarda che su questa cosa qua bisogna lavorare, guarda che quest'altra cosa qui merita veramente approfondirla e quindi grazie veramente per le cose che avete fatto, grazie per i risultati sulle amministrative, io sono stato veramente contento anche dei risultati che abbiamo raggiunto, che avete raggiunto quando ragionavamo con Lucia e Gianluca su come prepararsi alle amministrative ogni tanto loro mi dicevano ma stai tranquillo vedrai che ce la facciamo, vedrai che va bene, vedrai che i nostri sono forti sono impegnati, vale la pena investirci, bisogna ecco e quindi avevano ragione, avevano ragione in tutti i semi che abbiamo messo, poi qualche albero è venuto più solido, qualche altro albero diciamo abbiamo anche messo qualche albero in un deserto e quindi già il fatto che sia spuntato un germoglio era un risultato straordinario e noi apprezziamo anche i germogli, li custodiamo, li andiamo a piantare ci mettiamo all'ombrello quando il sole è troppo forte e quindi anche la prossima tornata delle amministrative per noi è una tornata importante, primo perché ci sono temi che riguardano chi abita, chi vive nella città, nel paese che ha bisogno di trovare risposte, che ha bisogno di avere la possibilità di sapere che il nostro partito è in prima linea a dare una mano secondo perché è una grande occasione di radicamento e il radicamento è una cosa importante per un partito come il nostro mi scuso se non riesco ad ascoltare tutte le zone, lo dicevo prima a Gianluca e Lucia alle otto e mezza è il bello di queste call che sabato, domenica, ieri eravamo all'assemblea di Milano che anche quella è andata molto bene e andiamo in continuità sabato, domenica, sera e mattina dopo ce n'è un'altra alle 20 e 30 ma quello che vi avrei detto anche ascoltando gli altri è facciamo lavorare i nostri comitati perché il vostro contributo è un contributo importante anche a livello nazionale quindi pensate come, ma fate rinascere i comitati scuole, i comitati sanità, i comitati infrastrutture se io dovessi dire ogni zona deve avere almeno un comitato sanità, fatelo nascere, cerchiamo se non ce l'abbiamo andiamo a cercare le persone per farlo nascere perché? Perché abbiamo bisogno di parlare delle cose che sono al centro dell'agenda delle persone normali io vedo le tre emergenze oggi, l'emergenza economica sotto gli occhi di tutti che purtroppo è paradossale ma colpisce di più dove l'economia era più forte non dove l'economia era più debole e dove c'era nei centri cittadini importanti dove il commercio funzionava soffrono di più che nel piccolo paese dove il commercio è sempre stato fragile e ha continuato a essere tale e l'emergenza sanitaria mi sembra che peraltro lì c'è un grandissimo lavoro che avete visto è stato lanciato da Matteo, Anna Maria e Lisa con questa Sanità 2030 e io considero veramente questo uno dei nostri terreni di prova anche dove sperimentarci su ruoli difficili come rifondiamo la sanità di questo paese non perché non funziona, non diciamo cose che sappiamo che non è così la sanità italiana funziona ma ha tante debolezze, tante fragilità di cui in questa occasione ci siamo accorti ancora di più allora rispetto a fragilità e debolezze sappiamo che dobbiamo investire investire di più, dare una mano a quei settori che soffrono in maniera maggiore pensiamo solo alle liste di attesa e poi sapete voi state in Lombardia che doveva essere che è sempre stata considerata diciamo la regione la regione clou per la qualità della sanità e invece anche lì tutte le criticità le avete viste disorganizzazione, incapacità politica anche che poi pesa fino in fondo però quanto spazio c'è per migliorare le cose ecco questo lavoro che Lisa, Anna Maria e Matteo che si è voluto mettere in gioco su questa cosa hanno lanciato secondo me è un grande terreno per misurare la nostra capacità di elaborazione di coinvolgimento come ben diceva Lisa nel suo intervento di coinvolgimento di tutti quelli che stanno fuori dal nostro partito e che vogliono trovare anche uno spazio di confronto per portare un loro contributo e c'è tanta gente che vuole dare una mano su queste cose e quindi mi soffermerei su queste cose e terza l'emergenza, l'emergenza educativa io la sento profondamente un po' perché insomma sono papà e quindi vedo anche come questa difficoltà della didattica a distanza oh insegnanti straordinari tutti bravissimi quelli che si sono misurati hanno fatto uno sforzo, si sono inventati si sono inventati perché hanno fatto da sole si sono inventati la capacità di fare le lavagne luminose i compiti mandati per mail ognuno ci ha messo la sua fantasia ma non basta io penso che dal punto di vista anche sociale noi avremo i nostri ragazzi che avranno un segno che resta per questo anno e oltre di pandemia, di mancanza di socialità voi pensate a un bambino di sei anni che per un anno non ha abbracciato i nonni non si è incontrato nella normalità con gli amici insomma sono cose che incidono e se la politica non si fa carico di questo di cosa si deve far carico io penso che rispetto a queste cose noi dobbiamo mettere in campo anche la capacità come dicevate, come dicevano bene anche Lucia e Gianluca all'inizio di ascoltare, sentire, raccogliere e poi elaborare e trasformare le cose in fatti concreti abbiamo trasformato le idee del piano shock sulle infrastrutture e la vostra è una regione una provincia che di infrastrutture ne ha ancora bisogno molto pur essendo ben infrastrutturata ma ascoltavo, bastava sentire le cose che si dicevano che dicevate sulle linee della metropolitana insomma abbiamo trasformato un'idea lanciata alla Leopolda in un decreto legge prima tutti ci criticavano adesso non c'è forza politica che non vuole aggiungere la sua opera locale all'interno dell'elenco il family act sembrava un disegno di respiro troppo ampio per essere trasformato in fatti concreti vedete che dal primo luglio vedrete nonostante tutte le fatiche gli italiani riceveranno nelle tasche qualche cosa di più intanto passiamo da 15 a 21 miliardi e poi vediamo come distribuirli con i principi anche che Ivan descriveva descriveva bene quindi io sono ottimista che anche sulla sanità porteremo a casa i nostri risultati come li abbiamo portati a casa su tanti temi legati al terzo settore prima Maria Chiara ha fatto un intervento un intervento molto bello lei gira un po' anche l'Italia raccontando e ascoltando dal terzo settore allo spreco alimentare a tutti i temi di un volontariato che ha bisogno e di cui voi siete un terreno molto fertile ha bisogno di sapere che c'è un pezzo della politica almeno che si occupa di loro non solo in campagna elettorale ma che si occupa dei problemi specifici delle cose che ci sono insomma abbiamo grandi opportunità da mettere in campo Mattia anche lui intervenendo anche ieri poi tocca dei temi che per il vostro territorio sono il pane quotidiano se non facciamo l'innovazione a Milano dove la facciamo io tra l'altro penso che l'economia cambierà moltissimo adesso non dico nulla su questo perché non abbiamo tempo l'economia cambierà moltissimo nel dopo pandemia voi pensate solo le imprese che fanno ristorazione per i privati hanno circa 150.000 operatori ristorazione collettiva parlo di mense e organizzazioni di questo tipo loro pensano che dopo la pandemia cioè quando l'attività tornerà normale ne perderanno un terzo di questi lavoratori perché naturalmente sono cambiate le abitudini e cambieranno le abitudini quanti di voi useranno lo smart working anche dopo la pandemia quante riunioni che prima si facevano andando a Milano per esempio che era uno dei luoghi delle riunioni di lavoro d'affari non si faranno più andando a Milano perché ormai abbiamo preso questa abitudine e cosa vuol dire questo in termini economici di riorganizzazione di settori del commercio quanti di noi prima non usavano Amazon e adesso o l'e-commerce per meglio dire e adesso hanno assunto l'abitudine anche persone anziane qui non ce ne sono di persone anziane ma io penso che penso a mia mamma che si va sul prende il suo pc e ha 80 anni e trova e si va a comprare le cose che le servono sul commercio elettronico lo farà anche dopo la pandemia quindi ci sarà una riorganizzazione dell'economia in questo paese molto grande Milano è la città che questa riorganizzazione dell'economia e la Milano che penso sarà quella che la vedrà prima perché magari avrà degli ambiti di difficoltà più evidenti e saprà organizzarla in maniera migliore noi dobbiamo esserci su questo ambito di riorganizzazione dobbiamo esserci con le nostre idee e con la nostra capacità di proteggere le persone che da questa riorganizzazione avranno una difficoltà chiudo con due osservazioni sul partito intanto veramente rinnovo il grazie anche a tutti i dirigenti locali tutte le persone che sono state individuate per assumere responsabilità c'è spesso un dibattito sulla nostra organizzazione e io penso che siano cose importanti io sono uno che l'organizzazione ce l'ha nel sangue nel senso che penso che l'organizzazione in un partito sia indispensabile stiamo attenti che non diventi mai lo scopo della nostra attività e quindi quando sento un responsabile di zona che non mi parla di come si accede ai dati ma mi parla dei problemi del suo territorio io applaudo perché vuol dire che interpreta esattamente quello che vuol dire la responsabilità all'interno di un partito noi dobbiamo riuscire a mettere questo al centro della nostra attività se noi riusciamo a mettere questo al centro vuol dire che tutti gli incarichi di responsabilità che ognuno di noi ha a livello diverso vuol dire che vengono utilizzati nella maniera migliore anche perché dicevo prima abbiamo le amministrative ognuno di voi ha delle responsabilità senz'altro nel suo ambito territoriale poi ognuno di noi mi ci metto anch'io abbiamo le nostre responsabilità anche sulle grandi battaglie che avremo a livello nazionale nelle grandi città per voi è una battaglia naturale quella di occuparvi dello sforzo che tutti quanti insieme dovremmo fare su Milano così come immagino ci sarà uno sforzo di ognuno con gli amici sui comuni che andranno al voto così tutti dovremmo metterci in gioco anche per dare una mano su Milano sia per il ruolo di città metropolitana sia per il ruolo di città simbolo di capitale economica di questo paese dove abbiamo Beppe Sala che si ricandida e che noi sosterremo fino in fondo a cui non dobbiamo dire niente dobbiamo dire Beppe vai avanti come sei andato avanti questi cinque anni sappi che ti siamo stati accanto in questi cinque anni il prossimo anno ti saremo accanto ancora di più perché saremo anche noi in consiglio comunale a votare i provvedimenti e dare una mano sui provvedimenti quindi questo è il nostro approccio che dobbiamo mettere lì ci saremo con tutto il nostro gruppo dirigente in particolare quello Lombardo ci sono altre competizioni importanti Lombardia prima di tutto la città di Varese però Milano è una città simbolo l'ultima cosa vi voglio ringraziare anche per il contributo che ognuno di voi ha dato in questa fase molto difficile per noi perché sapete quando si cammina anzi quando si corre si guarda sempre il chilometro che manca avanti e ci si dimentica di quelli che si ha percorso se uno fa una bella maratona guarda sempre gli ultimi tre chilometri che c'è davanti si dimentica che ne ha percorsi 38 magari le gambe gli pesano ugualmente però noi abbiamo percorso chilometri difficilissimi e siamo riusciti a percorrerli solo perché veramente avevamo un tessuto politico e umano che con noi ha affrontato questa sfida il nostro gruppo parlamentare è restato compatto perché dietro del nostro gruppo parlamentare c'eravate voi noi siamo stati bersagliati voi personalmente siete stati bersagliati in quei mesi con tutti gli oggetti contundenti che era possibile lanciare via web e probabilmente non solo via web abbiamo tenuto duro abbiamo fatto il più grande regalo possibile all'Italia oggi abbiamo un governo con preseduto da un uomo che è considerato autorevole in giro per il mondo prima no oggi abbiamo Marta Marta Cartabi a fare il ministro della giustizia prima no lasciatemela dire semplicemente così abbiamo fatto un salto di qualità di cui il nostro paese aveva assolutamente bisogno abbiamo fatto il più grande regalo possibile ai nostri figli e ai nostri nipoti abbiamo affidato le risorse che loro pagheranno in termini di mutui a mani competenti non so se la storia riconoscerà Matteo al nostro contributo questo però lasciatemelo dire non ce lo riconosciamo neanche noi non fa niente però sappiamo che ognuno di voi ognuno di voi deve sapere che il suo contributo è stato decisivo per ottenere un risultato che ha cambiato i destini del nostro paese e io penso che da piccolo partito ci danno il 2 il 3 il 4 l'1 lo 0,2 percentuali da gelo artico come dice Matteo va benissimo ugualmente noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo saputo fare per il nostro paese e tutto questo l'abbiamo fatto perché c'era un bel gruppo dirigente di cui voi ne siete una qualificatissima rappresentanza e io sono contento di aver passato con voi queste due ore e sono contento di avere l'amicizia di tanti di voi a cominciare da Gianluca e Lucia e di poter lavorare con voi buona serata e grazie Ettore grazie siamo felici di poter avere la tua amicizia anche perché davvero questo lo vogliamo dire davanti a tutti sei stato un sostegno importantissimo in questo anno disponibile attento presente ci hai anche dato le giuste sversate quando era il caso quindi davvero grazie da parte nostra perché la tua vicinanza è stata importante portale